Cosa hanno in comune Django Reinhardt, Charlie Chaplin e Rita Hayworth? Non solo, ci sono anche Elvis Presley, More Orfei, Ronnie Wood, Michael Caine, Zlatan Ibrahimovic... Ve lo dico io, sono tutti discendenti di persone rom, o meglio, romani. La cosa potrebbe stupire più di qualcuno, anche perché molto spesso la visione che abbiamo dei rom è quasi sempre stereotipata. Da una parte c'è l'idea romantica che vede il rom come il viaggiatore libero e senza regole, che vive alla giornata e senza schemi prestabiliti. Dall'altra ci sono i rom immigrati, per la maggior parte criminali, che vivono nei campi nomadi alle spalle della società. A questo punto viene da chiedersi chi siano davvero i rom, ma soprattutto è davvero corretto chiamarli così. È quello che proveremo a vedere in questo video, ma prima, se non ci siamo ancora incontrati, mi presento. Sono Giovanni Avornia, sono uno psicologo e attraverso il progetto di Etnopsi voglio condividere con voi il mio interesse per tutto ciò che riguarda cultura, tradizioni, usanze e costumi, e soprattutto per come tutto questo vada ad influire sulla psicologia di ognuno di noi. Prima di iniziare, quindi, vi invito ad iscrivervi al canale, così che con un semplice gesto in maniera totalmente gratuita, possiate darmi una mano concreta per far crescere questo progetto. Detto ciò, partiamo e andiamo alla scoperta del mondo romani. Rom, sinti, zingari, gitani, ma insomma, come si chiamano? Iniziamo spianando la strada e cercando di capire quale sia il termine giusto, quello più adatto per riferirsi alle persone che comunemente vengono etichettate come rom. E no, non è zingari. Per prima cosa analizziamo il termine romani, che sta ad indicare il grande cappello sotto il quale vengono inseriti i cinque principali gruppi etnici che compongono la comunità romani. I rom, i sinti, i calè, i manusci e i romani ciali. Se vogliamo quindi far riferimento in maniera generica ad una persona appartenente ad uno di questi gruppi etnici, utilizzeremo il termine romano, se singolare, o romani, se plurale. Chissà, magari bisognerebbe dirlo anche ai membri del Consiglio Europeo che invece hanno deciso di utilizzare il termine generico Roma, cioè il plurale di Rom. Ad ogni modo, semplificando al massimo, potremmo dire che romani può essere visto come il corrispettivo di italiani, mentre rom, sinti, calè, l'equivalente di morisani, toscani, calabresi e via discorrendo. Rom, sinti, calè, manusci e romanici, alquindi, indicano dei sottogruppi che, seppure abbiano molti tratti in comune fra loro, differiscono per provenienza, luogo stanziale, lingue e tradizioni. Analizziamoli uno per uno e partiamo dal gruppo Rom. Il termine Rom è un etnonimo, ovvero una parola con la quale i Rom stessi si definiscono e si riconoscono. Lo stesso vale per le parole sinto, calè, manusci e romanici, alquindi sono tutti termini che si traducono con uomo. Si ritiene che il termine Rom sia strettamente legato alla parola sanscrita Dom, la cui prima apparizione risale al VII secolo d.C. e la si trova all'interno del Sadhanamala, un testo scritto in sanscrito, per l'appunto, nel quale viene narrata l'esistenza di un re Dom, cioè di un re appartenente a un gruppo etnico del Medio Oriente. Questi Dom Medio Orientali avevano una ricca tradizione orale ed esprimevano la loro cultura e la loro storia attraverso la musica, la poesia e la danza, tutte caratteristiche comuni alla popolazione Rom. I gruppi Rom sono presenti principalmente nelle regioni dell'Europa centrale e sudorientale e si dividono in vari sottogruppi sulla base di diversi criteri. I mestieri e le attività svolte possono essere lavoratori di metalli, musicisti, allevatori di cavalli, chiromanti, la regione di residenza o di provenienza, la confessione religiosa o il patronimico. Emblematici in questo senso sono i casi dei De Rosa o dei Di Silvio, due cognomi ancora oggi molto diffusi tra le comunità Roma, Abruzzese e Molisane. Passiamo ora ai Sinti, che nel loro etnonimo hanno il luogo di provenienza, ovvero il Sindh, una regione a nord-ovest dell'India, diventata poi nel tempo territorio dell'attuale Pakistan. I Sinti parlano un dialetto nel quale sono presenti molti termini presi in prestito sia dal tedesco che dall'austriaco e va da sé che i principali insediamenti di questo sottogruppo romani siano proprio in Germania e in Austria. Gruppi Sinti si possono trovare anche in Danimarca, Italia, Paesi Bassi e in Francia. E proprio in Francia e nei Paesi Bassi un gruppo romani molto diffuso è quello dei Manus, il cui nome deriva dal termine sanscrito Manus. I Manus hanno svariate similitudini con il gruppo Sinti e la riprova di questo ce l'abbiamo proprio in Italia, più precisamente in Piemonte, dove i Sinti piemontesi condividono gran parte del dialetto proprio con i Manus della vicina Francia. Ci sono poi i Calais, il cui nome deriva dall'aggettivo della lingua indi Kala che significa nero, termine che dà il nome anche alla famosa Dea Kali, che nella cultura indiana è conosciuta come la nera. Come si può facilmente intuire i Calais si differenziano dagli altri gruppi romani per via del colore della loro pelle, nettamente più scuro. Sono presenti soprattutto nella penisola iberica e in Spagna costituiscono la più grande minoranza etnica del paese, rappresentando una forza politica e sociale molto influente. Una particolarità del gruppo Kala è che se ne trovano molti esponenti anche in Brasile, in Iran, in Africa del Nord e nei Paesi del Maghreb. Indice questo delle deportazioni e delle colonizzazioni avvenute nel corso degli anni e di cui parleremo in maniera approfondita più avanti. Frutto di deportazioni sono anche i Romani Chal, presenti sul territorio nordamericano e australiano, deportazioni partite dall'Inghilterra che ad oggi resta la nazione con il maggior numero di esponenti di questo sottogruppo romani. Una particolarità dei Romani Chal è che spesso vengono confusi con i Travelers, un popolo nomale di origine irlandese che quindi non ha origini romani ma che a quanto pare ne ha fatto propri gli elementi culturali a tal punto da assorbirli completamente. Ai cinque appellativi appena descritti riferiti alla popolazione romani spesso se ne associano erroneamente altri, alcuni dei quali nel corso del tempo hanno assunto un connotato dispregiativo oltre che identificativo, uno su tutti il termine Zingari. Stando a quanto riportato nel bellissimo libro di Gennaro Spinelli che vi lascio in descrizione, il termine Zingari sarebbe un eteronimo, ovvero il modo in cui un popolo ne definisce un altro, ma in questo caso in un'accezione per lo più negativa. La parola Zingaro deriva dal nome di un'antica setta eretica, quella degli Atingani, sì, quelli di Assassin's Creed Revelation. Conosciuti anche come Atingani, ovvero coloro che non vogliono toccare o essere toccati, i membri di questa setta rifiutavano qualsiasi contatto o interazione con le popolazioni a loro estrane e, oltre a condurre una vita itinerante, erano dediti alle arti magiche, attirando così a sé timori e sentimenti di repulsione da parte della popolazione locale. Gli Atingani erano presenti su tutto il territorio dell'impero bizantino, così quando i Rom nella loro migrazione arrivarono in queste zone vennero scambiati per membri della setta e la cosa gli creò non pochi problemi legati a fenomeni di emarginazione ed esclusione. L'appellativo di Atingani si attaccò addosso ai Rom trasformandosi poi nel tempo e passando da Atingani appunto, Azzigani, Azzigani, quindi Azingari, non perdendo però la sua connotazione negativa. È facile intuire quindi come chiamare una persona Rom Zingaro equivale a chiamare una persona italiana mafioso. Ma quant'è bella la mafia! Solitamente a Zingaro viene associato anche il termine Gypsy, altro eteronimo della popolazione Rom che affonda le radici nel nome del Monte Gipe, situato nell'ex comune di Modone in Grecia. Le terre del Peloponneso che circondavano questo monte erano conosciute come il Piccolo Egitto per via della loro prosperità e chi viveva in questi luoghi era chiamato quindi Egiziano. È proprio per questo che ai membri delle comunità romaniche attraversavano o che vivevano in quelle zone venne attribuito il nome di Egipsianus, diventato poi col tempo lo spagnolo Gitano, il francese Gitane e l'inglese Gypsy. Fun fact! Durante le loro migrazioni dal Medio Oriente all'Europa questi Egiziani raccontavano spesso di essere duchi e conti discendenti della nobiltà egiziana decaduta e di essere in pellegrinaggio per espiare la colpa di aver forgiato i chiodi con cui Cristo era stato crocifisso. Spesso per dimostrare questa loro versione portavano con sede le lettere firmate dall'imperatore del Sacro Romano Impero Sigismondo, dal Papa o da altri grandi dell'epoca. Alcune di queste erano vere e molte altre false, ma grazie ad essi ottenevano salvacondotti e con questi documenti viaggiavano incessantemente per tutta l'Europa. È anche per questo quindi che usare il termine Gypsy indica il definire gli appartenenti alle popolazioni Rom come degli eterni stranieri, come persone che mai si potranno integrare in un tessuto sociale. E ovviamente questo si presta benissimo a strumentalizzazioni. Quanta è bella la tv. Comunque chi ha da sempre difficoltà di integrarsi nel tessuto sociale e viene spesso confuso con Rom e Sinti sono i Caminanti, un gruppo nomade diffuso soprattutto in Sicilia ma che vede comunità semistanziali anche in città come Firenze, Napoli, Roma o Milano. Non mi dilungherò su questo tema perché rischiare di andare oltre l'intenzione del video. Vi lascio però in descrizione la pagina di Wikipedia dedicata a questo gruppo etnico e quella dedicata al progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti avviato nel 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il MIUR e l'Istituto degli Innocenti. Prima di chiudere la grande parentesi sulla terminologia è bene richiamare l'attenzione su un ultimo termine molto importante nella cultura romani, Gagè. La parola è stata coniata dai membri della popolazione romani in risposta all'appellativo di Zingari che gli è stato assegnato proprio dai Gagè, ovvero dalle popolazioni non Rom. Questi, gli altri, sono visti come dei creduloni, dei superstiziosi, troppo attaccati alle cose e talvolta violenti. La cosa non sorprende, visto che per i Gagè gli Zingari sono trasandati, infidi ladri, dei senza cultura, insomma, la sagra del pregiudizio. L'etimologia del termine non è certa. Alcuni romanologi la fanno risalire alla parola sanscrita gramja, che vuol dire uomo del villaggio, quindi residente, autoctono, altri alla figura di un condottiero persiano che diede il là all'esodo del popolo rom verso l'Europa. Ad oggi il termine è entrato a far parte del linguaggio comune perdendo però gran parte della sua accezione negativa. Ed è stato anche inglobato in alcuni dialetti italiani, penso a quello abruzzese o a quello parlato in alcune periferie romane, dove per l'appunto il termine gagio sta ad indicare un paesano bonaccione, insomma qualcuno da fregare. Dopo questo mega escursus sulla terminologia che accompagna la popolazione romani e i gruppi che la compongono, cerchiamo di capire meglio l'origine del popolo romano e di questi popoli e soprattutto come mai vengono visti come dei nomadi. Partiamo da lontano e più precisamente dal periodo che va dal 1001 al 1027 d.C. Siamo quindi all'inizio dell'undicesimo secolo quando l'imperatore persiano Mahmud di Ghazna riuscì a conquistare un territorio vastissimo nel nord dell'India causando non solo razzie di tesori ma anche grandi deportazioni di soldati nemici e di civili di ogni casta sociale. È interessante la figura di Mahmud Ghazna, uno di quei tipi che se non ti converti ti decapita. Simone di Novalezio potrebbe farci un bel video a proposito. Comunque, ha inizio così un grande esodo forzato di persone di origine indiana, quelli che i persiani chiameranno i Dom, diminutivo di Domba, cioè uomo, termine assolutamente spersonalizzante. Questo esodo aveva come punto di arrivo le varie regioni del grande impero persiano ed è proprio così che ha inizio il lungo viaggio che ha portato il popolo romani fino ai territori europei. Molti Dom rimasero entro i confini dell'impero persiano e si integrarono nel tessuto sociale a tutti i livelli, ma molti altri decisero di emigrare seguendo tre direzioni principali. Nord-ovest, risalendo il fiume Tigri fino a raggiungere le attuali zone dell'Armenia e della Georgia. Sud-ovest, passando quindi territori degli attuali Siria e Palestina per arrivare in Egitto e nel Nord Africa. E poi ovest, la tratta che seguì il numero più cospicuo di Romani e che attraversava tutta l'Asia minore fino ad arrivare nei territori dell'impero bizantino. Assistiamo quindi a quello che Gennaro Spinelli definisce il primo smembramento del popolo romani, che seppure ha fatto proprio alcune delle usanze e delle tradizioni dei popoli con i quali è venuto a contatto, è sempre riuscito a mantenere una propria cultura e una propria lingua. Dopo il grande esodo, comunque, la popolazione romani che intraprese la rotta ad ovest trovò una seconda casa nei territori balcani, dove già dal 1300 abbiamo testimonianze del loro stanziamento in queste aree, uno stanziamento che durò almeno fino alla conquista di Costantinopoli, evento questo che segnò l'ennesima migrazione forzata di molte comunità romani che questa volta però si spostarono verso l'Europa occidentale. Per i romani che decisero di restare, la sorte fu duplice. Chi rimase nella zona della penisola balcanica riuscì tutto sommato a fare una vita normale, lavorando soprattutto come musicista, fabbro o refice o comunque come contadino libero. A chi invece si trovava nella zona dei principati di Valacchia e di Moldavia non andò affatto bene, visto che divennero praticamente tutti i schiavi. La situazione era questa, loro erano proprietà del principe e lui gli concedeva di svolgere mestieri itineranti o mestieri che avevano a che fare con la costruzione di utenzi di legno o rame, a patto che loro gli pagassero i tributi, ovviamente che non venissero donati con l'intera famiglia a un monastero in qualità di saldo dei peccati del principe. E pensate che questa situazione durò fino alla metà dell'ottocento, quando grazie alle rivoluzioni liberali finalmente fu abolito lo schiavismo nella regione. Sorte diversa capitò invece a quei romani che decisero di andare via dai territori dell'ormai ex impero bizantino. Questi tentarono di integrarsi nelle diverse zone europee dove tuttora risiedono, quindi anche qui in Italia. E mentre alcune famiglie riuscirono a cambiare economia e ritmi di vita in maniera molto facile a seconda delle opportunità offerte dai paesi ospitanti, riuscendo quindi ad integrarsi, tante altre non furono disposte a rinunciare in alcun modo alla propria identità e alla propria cultura, creando così un cortocircuito che li trasformò ben presto in veri e propri reietti. A inizio così la zingarizzazione dei romani, che portò in varie parti d'Europa anche ad ordini di espulsione, arresti di massa, incrementi di sentimenti xenofobi, fino ad arrivare al genocidio avvenuto in epoca nazista. Del Porraimos o Samudaripen, ovvero del genocidio di Roma e Sinti compiuto dai nazi fascisti durante la seconda guerra mondiale, ho parlato in uno short dedicato che trovate qui sul canale YouTube e sui miei canali social. Vi consiglio di vederlo, perché parla di una pagina importante della storia umana prima ancora che il romani, e che ha visto perdere la vita a un numero di persone che va dai 500.000 a un milione e mezzo. Torniamo però a noi. Compresa la storia e quindi le cause che hanno portato il popolo romani a spostarsi, a cercare di adattarsi più o meno bene ai vari contesti socioculturali nei quali si sono venuti a trovare nel corso delle loro migrazioni forzate, cerchiamo ora di capire quali elementi sono rimasti stabili nel corso dei secoli e quindi se possiamo o meno parlare di una cultura romani. C'è da dire infatti che ci sono vari elementi condivisi dalle centinaia di sottogruppi romani e che quindi possono rappresentare la prova evidente dell'esistenza di una cultura comune. La visione dualistica della vita e del mondo per esempio è uno di questi. Ogni evento viene interpretato secondo concetti opposti come fortuna sfortuna, onore vergogna, puro impuro e lo stesso vale per i vari ambiti della realtà che quindi si divide in uomini e donne, giovani e vecchi, cose buone e cattive, utili o non utili. Oltre a questo va detto che ad avvalorare l'esistenza di una cultura romani ci sono anche una bandiera, blu come il cielo, verde come la terra e con una grande ruota al centro a simboleggiare il lungo viaggio affrontato dalla comunità nel corso dei secoli, un inno, gelem gelem tradotto camminando camminando altro segno identitario e un'organizzazione che ne tutela i diritti a livello internazionale, sto parlando dell'IRU cioè l'International Romani Union. Un altro elemento identitario molto forte è la lingua ufficiale che da oltre mille anni viene tramandata all'interno del sistema famiglia e rigorosamente in forma orale senza quindi la possibilità di poter essere appresa attraverso la scrittura e la lettura. Questa caratteristica la rende un elemento culturale di grande importanza perché non solo se non fai parte della comunità non la imparerai mai, ma la apprendi in famiglia, il luogo che per antonomasia sancisce la nascita dell'identità sociale dell'individuo. È in famiglia che impariamo le regole, le tradizioni, cosa sono e come sono fatte le strutture sociali istituzionali e in generale tutti i vari modi per comunicare. Come se non bastasse si analizziamo il vocabolario romani ci rendiamo conto che può essere visto come una vera e propria mappa identitaria di questo popolo perché ne racconta la storia e le migrazioni. Ci sono circa 800 vocaboli di origine indiana, 70 di origine persiana, 40 di origine armena e circa 250 di origine greca. Altro elemento culturale condiviso dai sottogruppi romani è la struttura sociale che vede, come già accenato, nella famiglia uno dei nuclei fondanti del sistema comunitario. Ogni membro della comunità sa che il suo onore e il suo disonore sono irreversibilmente legati a quello della sua famiglia che, a differenza delle società comuni, va oltre la cerchia ristretta di padre, madre e figli ma è costituita anche dai parenti più stretti, zii, zii e cugini di primo grado e da persone esterne che possono entrare a farne parte. Un accenno in ottica di struttura sociale va fatto anche alla legge rom che, a differenza di quanto si pensi, non si sovrappone a quella dello stato nel quale risiede la comunità, ma è comunque un elemento sociale molto potente perché permette di regolamentare liti, danneggiamenti e controversie matrimoniali. La legge è legge e per quanto possa sembrare strano va rispettata. La pena, decretata dal Consiglio di Anziani e Patriarchi della comunità, la cosiddetta CRIS, è sempre un risarcimento da attuare nell'immediato e senza diritto di appello e spesso comporta che sia chi vince che chi perde debba pagare una festa a tutta la comunità in segno di riconciliazione collettiva. Se non è cultura questa... Arriviamo così alla musica, che dai romani non è vista solo come un passatempo o una passione, ma come afferma Santino Spinelli, Roma abruzzese laureato in musicologia e docente all'Università di Trieste, è vista come un vero e proprio scrigno che racchiude la lingua, l'etica, la filosofia di vita e la memoria dell'intero popolo romani. Attraverso la musica i romani comunicano in maniera profonda, parlano di sé, come nel caso della serenata d'amore, il book VB, o più in generale i testi e i ritmi di un genere che ha influenzato e arricchito compositori come Brahms, Schubert, Ravel, Stravinsky e Tchaikovsky e che a conti fatti ha fondato il jazz europeo. Si sa, non c'è cultura senza tradizioni, quindi andiamo ad affrontare anche quest'ultimo elemento significativo in chiave culturale. Ci sono tre elementi nella tradizione romani che a mio avviso possono farci comprendere molto bene i valori e il modo di pensare e di vivere di questi popoli. La religione, i riti funebri e gli oggetti tipici. Per quanto riguarda la religione, va detto che normalmente i romani adottano il credo praticato dalle popolazioni fra cui vivono, per cui sono cristiani, protestanti, ortodossi e cattolici nella maggior parte dei paesi europei, mentre sono musulmani nella zona dei Balcani. La loro visione religiosa del mondo è caratterizzata da una lotta continua e perpetua tra forze oscure e forze benefiche e c'è da dire che quasi sempre sono soliti rielaborare le religioni locali inserendovi concetti mitici della loro tradizione. Un esempio è quello di Santa Sara, conosciuta anche come Sara la Nera, che viene venerata da molti manusci rom e sinti e che è un chiaro rimando alla dea Calì. I romani quindi credono anche ai santi e agli spiriti dei defunti, i mulè. E questo elemento ci introduce alla visione che hanno rispetto alla nascita e alla morte, elementi entrambi percepiti come impuri. Per quanto riguarda la nascita e le varie fasi ad essa collegate, va detto che la donna mestruata o incinta è vista come fonte di impurità, per cui non solo non può fare vita pubblica, ma non può neanche lavare i propri panni assieme a quelli degli altri. Addirittura per alcuni rom durante la gravidanza e per i 40 giorni successivi al parto, alla neomamma non è consentito svolgere alcuna attività, neanche cucinare. Al termine di questo periodo di purificazione, i suoi vestiti, il letto e gli oggetti adoperati fino a quel momento vengono distrutti o bruciati. Per quanto riguarda invece la morte, il suo culto è molto sentito e l'esperienza del funerale è un momento molto importante sia per il singolo che per l'intero gruppo, dal momento che rappresenta non solo un rito di passaggio per la persona defunta, ma anche un momento di aggregazione per l'intera comunità che si stringe tutta attorno ai suoi cari. Molto spesso la salma viene trainata da cavalli neri, animali sacri per le persone romani perché simboli del viaggio e della scoperta, e in questo caso quindi rappresentano il mezzo per l'ultimo viaggio del defunto. A volte poi, quando una persona muore, vengono bruciati tutti i suoi beni, roulotte compresa, a garanzia che l'eredità non crea i dissidi fra i parenti o comunque dislivelli sociali all'interno della comunità. Il lutto si porta per un periodo che va dai tre mesi ai tre anni a seconda del grado di parentela che lega la persona al defunto. Durante questo periodo il caro mostrerà il proprio dolore e la propria afflizione attraverso delle rinunce e attraverso il vestiario, rigorosamente all black, mentre gli altri membri della comunità dovranno portargli rispetto. Trascorso il periodo del lutto si potrà finalmente tornare, ma gradualmente, alla normalità. Quindi gli uomini potranno tornare a farsi la barba, si potrà ricominciare a guardare i programmi in tv o a mangiare cose che prima si evitavano, fino ad arrivare a dismettere finalmente gli abiti neri. Insomma, la morte è un elemento emotivamente impattante per i romani e a questo punto dovrebbe risultare semplice capire come mai molto spesso questi siano resti a parlare con preti e medici o comunque a frequentare gli ospedali. Sono ruoli o luoghi riconducibili proprio alla morte, per cui meglio starne a distanza. Prima di chiudere la questione culturale voglio parlare brevemente delle gonne e dell'oro, due elementi tipici della cultura romani e forse i più distintivi. L'oro è un elemento molto importante nella cultura romani. È simbolo di purezza, infatti viene donato alle donne in occasione del fidanzamento, ma è anche sinonimo di saggezza, se indossato dagli anziani della comunità, oppure di un'affermazione del prestigio sociale e non a caso molti uomini della cultura romani indossano catene e braccialetti d'oro. Il metallo quindi, a differenza di quanto si creda, è per i romani indice di virtù, per cui perdere una cosa in oro è come perdere una parte della propria dignità. Per quanto riguarda invece le famose gonne, queste sono espressione del contegno, del pudore e della riservatezza che caratterizza le donne romani e simboleggiano la netta distinzione tra i valori e le virtù romani e quelle del mondo esterno. Alla donna, infatti, è delegato il mantenimento dell'onore e della virtù dell'intera famiglia, per cui la gonna diventa anche un modo per enfatizzare questo ruolo così importante quanto pesante. Tutto quanto detto finora ovviamente è puramente a livello descrittivo, va da sé che, come avviene anche nel caso di molti italiani, le nuove generazioni romani risentano poco o quasi nulla di questi aspetti della tradizione, perciò è molto comune che ragazzi o ragazze romani possano sposare o frequentare partner gage o che i riti funebri possano essere svolti in maniera non tradizionale. C'è un bellissimo video di Saverio Tommasi al riguardo, ve lo lascio in descrizione. Si apre così l'ultimo grosso capitolo che ci tengo ad affrontare, cioè quello dei falsi miti e degli stereotipi che hanno i gage nei confronti dei rom e viceversa. Quando avevo circa 12 anni sono uscito per la prima volta con un mio amico e andando in giro per il corso della gaudiosa Campobasso, di cui segue diapositiva, arrivamo nella piazza del comune. Mentre stavamo giocando si avvicinarono tre ragazzini, uno più piccolo, gli altri due potevano essere nostri coetanei e ci intimarono di dargli i soldi che avevamo in tasca. Mentre io e il mio amico cercavamo di far valere le nostre ragioni, non senza difficoltà, il bambino più piccolo mi mise una mano in tasca cercando di prendermi il portafoglio. Non sto a dilungarmi, vi dico solo che alla fine sia io che il mio amico ci ritrovamo spaventatissimi, con un grande senso di vuoto e con un totale di 50.000 lire in meno nel portafoglio. Camminando per la strada del corso incontrai un ragazzo molto più grande di me che conoscevo fin da bambino e gli chiese aiuto nella speranza di poter recuperare il bottino. Quando però lui sentì il racconto mi disse Gianni, lascia perdere, so zingari. Ormai i soldi sono persi, se no capace pure che ti rallano. Termine autoctono per indicare una scarica di mazzate. Da quel giorno imparai che gli zingari sono pericolosi, che bisogna stargli alla larga perché non hanno regole, sono violenti e tra l'altro rubano pure i ragazzini. Sono stati zingari, zingari! Ovviamente questo stereotipo non mi appartiene più e grazie a persone, libri e interviste nelle quali mi sono imbattuto nel corso degli anni, oggi posso star qui a parlare della cultura romani e dei pregiudizi che costringono fin da piccole molte persone romani a omettere le loro origini per paura di non avere un'opportunità lavorativa o anche solo un'amicizia. Tra questi stereotipi ce ne sono due che vorrei affrontare. Quello secondo cui i rom rubano i bambini è quello secondo cui non vogliono integrarsi e vogliono vivere nei campi nomadi. Per quanto riguarda il primo, lo si può smontare facilmente se capiamo quanto i bambini siano importanti nella cultura romani. L'intero sistema familiare ruota attorno a loro, perché sono il futuro, la dinastia che va avanti, le persone alle quali insegnare i valori e la tradizione. Perfino il regime nazista non riuscì a staccare le madri dai propri figli, finendo per essere costretto a creare degli appositi campi di concentramento per famiglie zingare, unico caso nella storia delle persecuzioni. Capiamo bene quindi come sia difficile con questo asset mentale anche solo pensare di sottrarre un bambino alla sua famiglia, anche se questo è Gaget. Inoltre, la maggior parte dei romani ha già molti figli e rubarne uno significerebbe avere un'altra bocca da sfamare. Per di più, Gaget. E comunque ci sarebbe anche quel dato che dice che in Italia ad oggi non c'è mai stata una condanna della magistratura a danno di rom e sinti per rapimento o sottrazione di minori, ma su quello direi di soprassedere, no? Il secondo stereotipo, invece, lo abbiamo già in parte smontato parlando della storia dei dom e delle ragioni che non ne hanno permesso l'integrazione nel corso dei secoli. Il pregiudizio legato alla mancata volontà da parte dei romani di integrarsi è ancora molto radicato, ma va detto che ad oggi solo 10-15 mila persone romanesi trovano nei campi nomadi, a fronte degli oltre 160 mila che vivono invece in case normali, che hanno una cittadinanza italiana e che nessuno sarebbe in grado di distinguere da un qualsiasi altro cittadino nostrano. Ad oggi, i nomadi dei campi sono l'eccezione, non la regola. I motivi per cui sono ancora lì sono vari e molti di essi possono far riferimento alle dinamiche di stress da acculturazione delle quali ho parlato nel video che trovate qui sul canale. Qui però possiamo dire che, stando alla situazione attuale, seppur terribili, scomode e fatiscenti, le abitazioni dei campi nomadi sono le uniche nelle quali queste persone romanesi sentono al sicuro, forti dei propri principi e delle proprie dinamiche culturali e sociali. Abbiamo in Italia delle bozze di mediazione abitativa, i cosiddetti villaggi attrezzati. Sono degli spazi autogestiti per quanto riguarda la pulizia, il pagamento delle utenze e la manutenzione delle infrastrutture e ospitano nuclei familiari allargati, per lo più sinti, che scelgono questa soluzione perché si occupano soprattutto di fiere o di attività circensi, cioè tutti quei lavori che li costringono a passare lunghi periodi in giro per l'Italia. Va da sé che questa soluzione non è l'ideale in tema di accoglienze, in primis perché non può essere applicata a tutti i romani. In più finisce col creare delle sorte di ghetti che, se da una parte danno l'illusione di fornire uno spazio in cui poter vivere la propria cultura, dall'altro però alimentano sentimenti di diversità e di stereotipizzazione. Se la base dalla quale partiamo è questa, è facile quindi ipotizzare anche i pregiudizi che i romani hanno nei confronti dei cagè. Non ci vogliono, sono pericolosi, non ci capiscono, hanno valori troppo diversi dai nostri e così via. Tutte idee frutto di un meccanismo di difesa nei confronti di una società che troppo spesso etichetta e con meno frequenza cerca di capire. E questo vale sia da una parte che dall'altra. Bene, con questo chiudo. Spero di essere riuscito a fare una panoramica efficace sulla cultura romanì e di aver reso maggiormente comprensibile come mai persone che svolgono lavori comuni o rivestono anche cariche importanti nella nostra società si possano sentire a volte quasi costrette a nascondere la propria identità culturale pur di riuscire ad avere una vita come tutte le altre. Fatemi sapere cosa ne pensate o se avete ulteriore materiale di approfondimento. Io nel frattempo come sempre vi lascio in descrizione le fonti dalle quali ho preso tutte le informazioni utili per questo video e vi ricordo che per spunti, domande e collaborazioni mi trovate anche su Telegram digitando chiocciolina Giovanna Vornia. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like e condividetelo sui vari social così che possa arrivare a quante più persone possibili e possa quindi far crescere la nostra community. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto e mi raccomando lasciatevi affascinare dalla cultura. Ciao!